Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai una cosa davvero importante, che il calcio è un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera. Il campo di pallone, compreso tutto quello che non funziona, senza dimenticarci mai un gioco, anzi detto alla nostra maniera.